Il cuore elegante della città è rappresentato da Via Monte Napoleone, che costituisce uno dei lati del quadrilatero della mostra, delimitato da Via Manzoni, Santa Andrea e dalla famosa Via Pistigale. Passeggiando in queste zone si trovano le bucchie delle grie più famose, in un contesto caratterizzato da palazzi neoclassici. Passeggiando in queste zone, in una puntata speciale come questa, in una città internazionale come Milano, dove la moda e la fada padroni non potevamo non visitare i dati, cavalli e caffè. E per questa occasione, sorpresa!